Africa occidentale, repubblica del Burkina Faso, poco più di 15 milioni di abitanti, 274 mila chilometri quadrati. È qui che la provincia di Bolzano ha investito oltre 2 milioni di euro per finanziare circa 170 progetti di cooperazione internazionale. Nel capoluogo altoatesino, nell'ufficio del presidente della provincia di Bolzano, Luis Durwalder, una semplice ma importante cerimonia per confermare, una volta di più, il valore dello stretto legame di collaborazione che unisce il Burkina Faso all'Alto Adige. È stato Harba Diallo, vicepresidente del Parlamento del paese africano e sindaco della città di Dori, a consegnare al governatore altoatesino una delle massime onorificenze statali. Un segno di gratitudine ma soprattutto la volontà per entrambe le realtà territoriali di proseguire sulla strada della cooperazione. Noi vorremmo aiutare la gente che ne ha bisogno, non vogliamo dare lemosine ma vogliamo dare un aiuto concreto specialmente di mettere in posizioni loro stessi di potersi aiutare, cioè non portare il pesci ma insegnare e pescare, questo secondo me è importante, così anche in questo caso. Noi abbiamo già appoggiato fino adesso 167 progetti con un importo di circa 2 milioni, credo che con ciò abbiamo potuto realizzare alcuni progetti nel settore economico, culturale, sociale e sanitario. Adesso abbiamo un progetto nella zona di Dori dove vogliamo realizzare insieme in collaborazione con l'Unione Europea, un progetto di 660 mila dollari, la metà a nostro carico, l'altra metà a carico dell'Unione Europea e in questo caso trattasi di un progetto di un acquidotto per una ventina di paesi, poi anche un progetto di irrigazione e poi un progetto per lo sviluppo della zootecnia. Lì vorremmo anche avere una collaborazione con i nostri allevatori e anche con i nostri tecnici per fare acquidotti, cioè il materiale però anche il know-how. I progetti di cooperazione sostenuti dalla provincia di Bolzano hanno permesso di guidare il Burkina Faso su una strada indirizzata ad un sempre più importante sviluppo economico. La delegazione presente nell'ufficio del governatore Alto Tesino è stata inviata in Alto Adige su incarico delle massime autorità statali. Il presidente di Burkina Faso, il signor Blaise Comporé, ha deciso di discerne la medaglia di collettività. Io sono venuto qui a Bolzano oggi a nome del presidente del Burkina Faso per consegnare questa medaglia delle collettività territoriali al presidente della provincia di Bolzano, Durunwald, per gli sforzi di cooperazione compiuti in questi 23 anni nei due campi prioritari di sviluppo, cioè l'accesso all'acqua potabile e la sicurezza alimentare. La ragione per la quale il presidente del Burkina Faso ha consegnato questa medaglia è stata la volontà personale del presidente Luis Durunwald in 23 anni di cooperazione attraverso 157 progetti di accompagnare il Burkina Faso nei suoi sforzi di sviluppo. Il presidente di Burkina Faso mi ha domandato di venire a remettere al presidente di Bolzano La visita a Bolzano ha permesso di rinsaldare i rapporti tra Burkina Faso e su Tirolo, il tutto all'insegna di una sempre più proficua collaborazione.